Allora, io sono nato il 31 di maggio del 1914. I miei ricordi, i miei primi ricordi sono della prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale perché io sono nato nel Veneto, no, a Vicenza, ma Vicenza provincia, ma poi ero più vicino a Bassano del Grappa. Stando alla casa mia avevo i primi monti perché fino a lì è tutta pianura assoluta. Poi lì incomincia a Bassano del Grappa, Asiago, Trento e ci sono i Dolomiti. Sono nato nel 1914, più o meno quando è iniziata la prima guerra mondiale. Adesso il 1918 è finita, no? Allora nel 1918 avevo quattro anni, io davanti alla porta di casa mia, proprio, ricordo che c'erano le artiglierie, facevano le esercitazioni con i cannoni, sparavano a una certa distanza e il proiettile passava sopra alla nostra casa e andava in mezzo al Brenta perché in mezzo a Bassano ci passa il fiume Brenta, che passa in mezzo a Bassano e poi quando arriva in pianura si allarga come un serpente visto da Asiago. Da Asiago vedere sotto il Brenta che esce da Bassano sembra un serpentello così in pianura, fino a Venezia. Allora, come dico, ho ancora in mente queste bombe che mi passavano sopra la testa, erano esercitazioni, non erano bombe vere, erano scaricate a salve ma erano bombe, no? Prima di andare a soldato io, per istinto, sono uno che ho sempre voluto capire e imparare. Quando qualcuno mi faceva vedere una cosa nuova, interessante, era mia, me la fotografavo, me la tenevo. Quindi io avevo imparato a fare parrocchiere, guarda un po'. In campagna così, questo bambino, per tirar fuori qualche soldino, facevo le barbe e facevo il parrocchiere. Quando sono andato a militare, poi io avevo l'istinto del parrocchiere, mi piaceva fare il parrocchiere, ero sempre a guardare il parrocchiere della compagnia, perché ogni compagnia ha un parrocchiere, per forza, chi le corcia i capelli, la barba, ero sempre a guardare. Allora, il parrocchiere anziano, che era un abruzzese, perché il mio reggimento era composto da tre battaglioni, Bassano, Vicenza e Aquila, Bassano, Vicenza e Aquila, tre battaglioni, facevano il reggimento, no? Allora, questo momento, un simpaticone, fa conto vedere il Magalli, alto come Magalli, tutti conoscete chi è Magalli, no? Piccoletto, simpatico, robusto, e facevano il parrocchiere, e mi vedevo a guardare, interessato, Bulba, perché le reclute le chiamavano Bulbe, Bulba, ti piace fare il parrocchiere? Ma magari, magari, e allora aiutami, fa qualcosa, ma si faceva aiutare, si faceva aiutare, così mi sono messo a lavorare con lui, con lui, poi a fare di lui, è andato in congedo, e io ho preso il posto suo, ha fatto il parrocchiere, così sono arrivato a casa con quei soldini in tasca, perché qualcosa guadagnavo, vabbè, lasciamo perdere il passato e guardiamo l'avvenire, di lì mi sono un po' vestito, perché ero giù di vestiti, dopo due anni che uno era a far militare, i vestiti non ne ha più, poi andavo a casa, allora i soldini li avevo, mi sono vestito bene, tutto quanto, e poi avevo un fratello, che era più vecchio di me, faceva il carabiniere, era a Cairo, e mi ha detto guarda che là fanno delle fabbriche, fanno, se vuoi venire a lavorare, porca miseria, puoi immaginare, allora parti, prendo il treno, e arrivo a Cairo, arrivo a Cairo, il mio fratello mi presenta all'ufficio del collocamento, Allora il carabiniere era, come anche adesso, sono rispettati i carabinieri, insomma l'impiegato ha preso nota, mi ha mandato a lavorare nella Cocchitalia. Ho lavorato un po' di tempo, forse un anno, un anno e mezzo, due, non so, non ricordo più, al surfato, e dal surfato, quando mi hanno scoperto che erano capaci di operare i carabinieri, mi hanno mandato al reparto fossile, dove c'erano gli enormi carabonti, grossi, 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 e io li sapevo guidare, anche lì al surfato ne guidavo uno piccolo, ma grande, essendo sempre a differenziale, sempre la teoria è quella, ho fatto la qualifica, mi hanno dato subito la qualifica da carabontista, poi lo facevo tanto bene, che mi hanno fatto capo turno di quel reparto là, mi hanno fatto capo turno del reparto fossile, e lì ci sono stato fino alla fine, ci sono stati tredici anni, tredici anni. Poi ho smesso di lavorare alla Cocchitalia e quando sono andato a Ferrania. Alla Cocchitalia prendevo le penosità e quindi la mia paga era un po' maggiorata perché facevo un lavoro penoso, infatti ogni mese avevamo il dottore che ci controllava la pressione e la salute, ogni mese, però davano qualcosa che poi alla fine sono abbastanza. Poi quando sono andato a Ferrania era di nuovo un lavoro penoso, anche là lo stesso, c'era un dottore che mi controllava, prevedevo le penosità anche là, quindi la paghetta un po' più alta l'ho sempre presa, sia la Cocchitalia come la Ferrania. Noi avevamo la chimica proprio, la chimica, perché dovevamo partire con dei prodotti ma che secondari, terziari e unirli, farne due, di due fanne uno, poi con altri due fanne ancora uno, fanne ancora uno e niente, arrivando alla fine la chimica è infinita, è infinita, perché c'è sempre qualcosa che si può cambiare, fare differente, non è mai studiata abbastanza, bene cosa fanno il giorno d'oggi con la chimica, fanno qualunque cosa. Noi là non passavamo una settimana che c'era un incendio, nel reparto, un incendio, dove venivano gli incendi? c'era due fili di reatori, no, lungo tutto il reparto, sono stati 15 per parte, in mezzo c'era un grosso fossato di cemento, naturalmente, dove vanno tutti gli scarichi, tutti gli scarichi, tutti gli scarichi andavano a finire là, e purtroppo ci va anche dei solventi, ci vanno delle infiammabili, delle volte l'acqua, delle volte, se sei con l'acqua, non bruciano, ma se delle volte capita che sono anche puri, tac, una fiamma che salga su da, questo fossato era coperto da un grigliato di traversi di legno, gli steli di legno messi distante a tanto così, che non ci passi un piede, no, si poteva camminare sopra, no, poi volendo lo facevano riprendere, togliersi, poteva togliere e mettere come si voleva, appunto per questo che era, e avevamo gli estintori da tutti pronti, in fila, vicino alla casa, quando ci veniva un fuoco, tac, si spegneva, si spegneva, eravamo tutti i pompieri, ma abbiamo fatto il corso dei pompieri anche noi, abbiamo fatto fare un corso, porca miseria, eravamo anche pompieri, infatti, lì non è mai arrivato i pompieri, ci abbiamo fatto noi i pompieri, dico una settimana senza incendi, non è mai passata. la più fettente è la peridina, porca miseria, la peridina, la peridina è terribile, gli altri odori li sopportavo, ormai perché non si abitua, si abitua, ma io mi domando come ho fatto io, ma lei pensi che facevo, facevo dei lavori, per tutti i lavori più pericolosi, dove c'era responsabilità, il caporeparto, voleva un uomo sicuro, veniva sempre da me, quando dovevamo fare un lavoro e trattare dei gas talmente nocivi, li facevamo sotto ventilazione, la ventilazione sarebbe una stanza chiusa in vetro, con una seranda che va su e giù, si può tirare su e giù, un poco di più, di più, come si vuole, no? in maniera che, questi lavori che facevamo sotto, sotto la cappa, la chiamano la cappa di ventilazione, sotto la, non c'era un pericolo per noi, perché c'era una corrente d'aria, facevamo i motori che mandavano fuori l'aria su alla ciminiera, nella ciminiera, e tenendo la caldaia, la seranda abbastanza su, c'era una corrente d'aria, così uno poteva anche vedere, insomma, perché se non ci fosse stata la ventilazione, vedeva il gas, perché qualche perdita c'è sempre, però io non mi fidavo della maschera, perché avevamo una maschera, avevamo una maschera, il cui facciale, andava fuori dalla finestra a prendere l'aria fuori, io respiravo l'aria di fuori, che mi arrivava nel tubo, il facciale, però, un uomo che deve lavorare, muoversi, girare, giro di qua, giro di là, il tubo, che è obbligato a dare la finestra, il tubo, finiva che il facciale si staccava dalla faccia, prima mi entrava, era pericoloso, non era sicuro il cuore, allora io sa cosa facevo, testa dura, andavo sotto senza maschera, trattenendo il respiro, io ho fatto la prova, trattenevo il respiro, un minuto, un minuto e mezzo, ottenevo, poi usavo fuori, allora mi ossigenavo, però, nei miei polmoni, i gastrociuli non sono mai entrati, quindi ho sempre fatto quei lavori pericolosi là, senza mai, sono qui che le racconto, che ho 104 anni. Applausi